Clicare coupon e buoni sconto via mobile è un'ottima opportunità per acquisire nuovi clienti, aumentare i guadagni e fidelizzare gli attuali. Come fare? Vi darò qualche esempio, qualche tip concreto in questo video. Se parliamo di acquisire nuovi clienti vi do un'idea. Spargiamo subito la notizia che offriamo un buono sconto di 5 euro, diciamolo su Facebook, su Instagram, soprattutto utilizzando anche le IG Stories e facendo dei brevi video in cui lo spieghiamo. La vetrina del nostro negozio mettendo un bel cartello con QR code. Cosa diremo? Beh, un bel avviso che dice clicca qui oppure scansione il QR code per ottenere subito 5 euro di buono sconto. Accidenti, quando la signora Maria vede sta cosa dice wow, petta 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 che il buono io non me lo devo perdere, quindi o cliccherà sul banner se lo trova online oppure scansionerà il QR code della vetrina, arriverà nella landing in cui troverà un form, quando lo compila gli arriva un sms con un coupon sconto di 5 euro e oltre ad essere contenta verrà anche il negozio a spendere da te. Cosa hai fatto? Hai acquisito uno, un nuovo cliente, due, i suoi contatti per poterlo ricontattare in altre occasioni e spingerlo a tornare da te. Un altro utilizzo dei coupon è la fidelizzazione. Invii un sms a tutti i tuoi clienti con un codice sconto ringraziandoli di esserci. Cosa succederà? Tutti i felici e soddisfatti vengono da te e tu intanto incasserai, quindi li avrai fatti felici e aumenterai i tuoi guadagni. Il mondo dei coupon digitali è una figata perché tra l'altro quando il cliente viene in negozio ti dà il suo codice che è personalizzato diverso da tutti gli altri e tu lo potrai insegnare come utilizzato. Questo ti permetterà di monitorare sia la riuscita della campagna, sia capire un po' anche quali azioni future fare magari su chi non è venuto ad utilizzare il coupon. Puoi provare gratuitamente questi coupon digitali cliccando nel link che trovi qui sotto nella descrizione. Se ti è piaciuto questo video e vuoi avere altri consigli di marketing per la tua attività, mi raccomando prosegui gli altri video e iscriviti al canale. Grazie a tutti!